ciao benvenuti su menti taro dunque con questo video volevo parlarvi di alcuni corsi di tarocchi che ho deciso di attivare in questi giorni sono dei corsi di livello avanzato cosa vuol dire vuol dire che voglio focalizzarmi in questo momento su coloro che conoscono già i significati delle carte dei tarocchi conoscono già più o meno come leggerli a livello base diciamo però non riescono a fare un livello uno step ulteriore ovvero non riescono a leggere le carte in modo fluido si bloccano magari durante la lettura perché ci sono delle carte che non riescono a collocare all'interno appunto della lettura e quindi hanno vari dubbi molti dubbi molte insicurezze appunto perché mancano quelle tecniche di lettura dei tarocchi di livello avanzato che normalmente nei manuali di tarocchi nei corsi di tarocchi di livello base non si trovano sono corsi il cui approccio è intuitivo che cosa vuol dire vuol dire che sono dei corsi che mirano a aumentare la flessibilità mentale durante la lettura quindi dello studente e la sua connessione con la propria intuizione per questo utilizzerò il mazzo rider with smith però appunto sono tecniche alla fine che possono essere più o meno utilizzate con tutti i mazzi anche volendo il marsigliese la metodologia è interattiva nel senso che ci saranno delle esercitazioni su cui darò un feedback ci saranno possibilità di dare di fare domande specifiche e quindi di ricevere la risposta e poi se lo studente ha tempo anche di fare esercizi a casa su cui darò il feedback la lezione successiva sono per ogni corso ho calcolato un tre incontri di un'ora via zoom sono corsi individuali ovvero ci sarà solo uno studente per volta preferisco questa metodologia questo approccio perché mi permette di concentrarmi unicamente su uno studente alla volta e quindi di risolvere singolarmente ogni dubbio ogni insicurezza di adattare magari il corso a una problematica specifica di ciascun studente e credo che sia anche un una metodologia che veramente permette di accelerare l'apprendimento quindi di molto più efficace dei corsi in gruppo mettiamola così quindi sono corsi strettamente individuali ogni corso mira a risolvere una problematica specifica per il momento ne ho concepiti tre il primo serve a leggere le carte in modo fluido combinandole insieme perché solitamente soprattutto chi ha ancora a livello base riesce a leggere le carte una alla volta per posizione una stesa una carta presente una carta passata una carta futuro una carta che rappresenta il consultante eccetera eccetera invece questo primo corso che appunto chiamato come combinare le carte fornisce delle tecniche delle strategie per leggere due tre cinque o più carte tutte insieme di seguito in modo da fornire però una risposta chiara pratica e diretta alla domanda il secondo corso invece si focalizza sulle figure di corte tipo il pancio il cavaliere la regina e il re di ciascun seme solitamente sono carte un po più ostiche rispetto alle altre queste perché appunto possono avere varie funzioni all'interno della lettura possono rappresentare delle persone, degli aspetti del carattere del consultante, degli eventi, degli stadi evolutivi di una certa circostanza quindi insomma sono un po' complesse durante il corso fornirò delle tecniche per identificare ogni volta chi e cosa rappresenta ciascuna carta di corte all'interno della lettura anche nel caso soprattutto anzi se ce ne sono più di una perché solitamente questo è un po' il problema a volte no? quando ci sono due o tre figure di corte su magari cinque carte insomma o anche sette o va bene uguale il terzo corso invece l'ho chiamato smitizzare gli arcani maggiori perché l'ho chiamato così? perché solitamente quando si leggono gli arcani maggiori non si riesce ad andare oltre una interpretazione un po' mitizzata no? e quindi generica che so le stelle, il sole no? vengono solitamente insegnati come lezioni da apprendere o comunque momenti evolutivi no? di una situazione o della vita di una persona quindi non si riescono ad adattare a specifici contesti anche di tipo pratico con il risultato che l'interpretazione risulta un po' vaga e un po' generica no? dove queste carte insomma dicono più o meno sempre le stesse cose per ogni situazione durante questo corso invece io miro a insegnare come interpretarli in qualsiasi ambito che so il lavoro, le relazioni sentimentali, le finanze eccetera e per qualsiasi tipo di domanda quindi non solo di tipo evolutivo ma anche relativa all'ambito quotidiano in generale io ho questo approccio di aumentare la flessibilità mentale che vuol dire proprio nello specifico che ogni carta che insegno a interpretare ogni carta in qualsiasi tipo di ambito e per qualsiasi tipo di domanda quindi non solo di tipo psicologico evolutivo ma proprio in un contesto pratico fosse anche un tipo dove ho perso le chiavi di casa dove ho perso le chiavi dell'auto dove si trovano domande anche di questo tipo insomma perché i tarocchi sono delle carte molto flessibili e come tale vanno trattate e invece solitamente insomma una persona riesce con il manuale o con i corsi base a rimanere un po' legato a dei significati rigidi invece appunto in questi corsi tipo avanzato cerco proprio di aumentare la flessibilità mentale dello studente quindi il suo contatto con la propria intuizione potete iscrivervi attraverso il mio sito web lascerò il link nei commenti se avete ulteriori domande, bisogni e chiarimenti eccetera potete tranquillamente iscrivermi per email a mintitaro-gmail.com bene spero che vi piaccia questa idea dei corsi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo presto ciao